Fratello, ho ordinato a dieci navi e duemila uomini di salpare da Abbrodo del Re per unirsi all'impresa delle Stampsons. Le difficili circostanze ci hanno visti allontanarci. Sappi che non è mio desiderio vederti fallire nel tuo percorso. Al contrario, è mia speranza che questo aiuto possa portare alla vittoria che finora ci è sfuggita. Pregherò gli dei per che tu faccia ritorno sano e salvo.